Ciao a tutti, sono Mattia Cerritto, mi trovo all'ex me, stiamo preparando il video del nuovo singolo Un posto dove stare, in questo pezzo si parla proprio di un equilibrio che viene a mancare quando ci si sente soli, quando ci si sente spaisati e vuoti, e parla appunto di me che nonostante le mille difficoltà passo dopo passo cerco di trovare il mio equilibrio. Poi la guardo anch'io perché altrimenti l'ex me è un centro sociale aperto da poco a Cagliari che si apre ai giovani, è un ottimo spunto per i ragazzi per trascorrere il loro tempo e trovare situazioni più piacevoli rispetto a quelle che un adolescente di oggi potrebbe ritrovarsi a vivere. Un saluto e un ringraziamento a Ugo, a Dumus De Luna e ai ragazzi dell'ex me che hanno contribuito alla realizzazione del mio nuovo video. Naturalmente un saluto e un ringraziamento a voi che mi seguite dal giorno 1. Nel pezzo, nel pezzo, nel pezzo, nel pezzo.